Sì? Prego, sia comodo. Ringrazio, grazie. E lei? Buongiorno, geometra. Buongiorno. Sì, mi scusi, sono venuto senza appuntamento, ma ho una bella notizia da darle. Sì, è comodo. Grazie. Che io, il direttore della ASL, lo conosco molto bene da una vita, ci gioco a Temis per dire. E vince. Sì, sì, non è fortissimo. Diciamo, mi sono permesso di perorare la sua causa. È molto gentile, ma io non le ho chiesto niente, però… Sì, lo so. Beh, non vuole neanche sapere com'è finita? No, me lo dica. È finita che l'ho convinto. mandato il pagamento per i lavori al parcheggio della ASL. Non è tutta la cifra, ma insomma, ho visto come si dannava quel giorno, ho pensato… mi hanno assicurato che i soldi saranno sul conto domattina. E in cambio da me cosa vuole? Assolutamente niente. È il piacere di aiutare un collega. Anzi, volendo, io potrei fare anche qualcosa in più, perché si dà il caso che io rappresenti degli investitori che sarebbero interessati a dare una mano a quelle aziende che hanno qualche problema di liquidità. Ho capito. Ma non è il nostro caso. Allora meglio così. Di solito tutti hanno problemi di contante, ma… e il mandato però glielo lascio. Grazie. È stato un piacere. Se dovesse cambiare idea, gli ho lasciato il mio biglietto di visita. Ho visto. Grazie. Grazie.